La pandemia ha fatto aumentare a dismisura il numero dei poveri. È urgente dar risposte concrete a padri di famiglia, donne e giovani che patiscono la disoccupazione, esorta il Papa. Messaggio in vista della giornata mondiale dei poveri, 14 novembre. Quel giorno, purtroppo, prevede Francesco, i poveri saranno ancora più di oggi. È la ricorrenza da lui istituita perché c'è una misteriosa sapienza che Dio comunica tramite loro e anche se li avete sempre con voi, citazione evangelica, titolo del messaggio, i poveri non devono indurre abitudine, poi indifferenza o, peggio ancora, fastidio, scrive il Pontefice. Anzi, se sono messe ai margini, allora il concetto stesso di democrazia è messo in crisi, avverte il Papa, accusando poi attori economici e finanziari senza scrupoli di creare trappole sempre nuove di esclusione. Questa è l'economia che uccide, come va dicendo da anni Francesco, ma la povertà non è frutto del destino, anche se l'idea che il povero sia tale per colpa sua si fa sempre più strada, osserva Amaro oggi. Messaggio ispirato al Vangelo della donna che usa un prezioso unguento per profumare Gesù, anziché venderlo, come reclama Giuda, e darne ai poveri il ricavato. Quell'anonima donna, scrive Francesco, rappresenta l'intero universo femminile che non avrà voce e subirà violenza nei secoli. E in sala stampa, presentando il messaggio, commentano Davanti ai fatti quotidiani di violenza nei confronti delle donne, non si può sottacere la condanna per questa barbarie.